Vendere casa, ma io faccio da solo, risparmio Ma mi servono i soldi, mi servono i soldi, mi servono i soldi Ma davvero risparmi? Quanto costa vendere una casa in modo professionale? In modo professionale vuol dire in un modo atto a ottenere il massimo, a rispettare dei tempi e ovviamente analizzare il tutto per aggiustare il tiro perché è così che si va sul mercato immobiliare andando un po' a zonzo si rischia di svendere o di non vendere mai la propria casa quindi si parla di una vendita professionale e quanto si spende? Stai guardando questo video e non sei iscritto al canale? Clicca, ti iscrivi, rimani aggiornato, non ci devi cercare e non mi fai contento, ti lascio al video Partiamo dalla valutazione La valutazione comunque ha un costo sia per reperire le ultime vendite sia per un abbonamento a programmi, software per poi stilare una valutazione i costi di trasporto per andare a fare il sopralluogo che variano da zona a zona tutti questi fattori hanno un costo e poi passiamo alla fase attiva cioè ovvero quello che poi si fa per vendere la casa un metodo come si deve va sia con una campagna fisica come si dice oggi offline e un'altra su web online per esempio quello che facciamo noi è prima di fare una promozione online partiamo con l'offline una campagna cartacea nelle buche proprio in un circondario di almeno 5 km nel circondario dell'applicazione è tanto materiale da consegnare tanto lavoro perché comunque non è che lo puoi fare da solo ci sono delle persone che lo devono fare e quindi questo è un costo sia di stampa sia di consegna molto importante che si aggira almeno tra i 5-600 euro se ti va bene poi ovviamente una stima dipende poi da zona a zona si passa a un fattore fondamentale per la vendita di una casa foto e video e servizio drone che vale sempre anche per le palazzine e questo è anche un costo di gestione delle fotografie se hai tu dei software a parte per fare foto immobiliari o per appoggiarti a un fotografo quindi si parte dai 30-40 euro a servizio fotografico più il montaggio il video che va dai 300 euro su un immobile standard compreso di montaggio più i 500 euro di prima della campagna cartacea e poi la campagna online i portali hanno dei costi di gestione molto alti anche intorno ai 1000 euro al mese la campagna social ha un costo almeno di un 70 euro a settimana la campagna marketing su google stiamo anche su quella cifra sui 70-80 euro anche 100 euro è da considerare anche poi tutto il materiale che c'è intorno la scheda immobile perché poi si va anche a reperire tutti i documenti se si deve fare l'accesso agli atti si paga dipende da comune a comune si fa preparare una scheda immobile online e poi cartacea quindi altre stampe se si devono fare sovralluoghi con altri tecnici si fanno e poi le visite in open house comunque c'è un'organizzazione dietro ben strutturata qui poi c'è anche il post dopo la proposta accettata si segue comunque fino all'atto si interfaccia col notaio banche se ci sono banche in mezzo per agevolare la vendita e per una vendita anche sicura siamo intorno a almeno 1500 euro ma è una stima molto generica a volte si spende anche di più quindi affidarsi a un professionista che ti fa ottenere il 100% del prezzo richiesto è un investimento quindi il concetto è questo in più adesso sai quello che si deve spendere per vendere una casa e come in ogni settore è sempre meglio affidarsi a chi lo fa tutti i giorni anche per avere anche rispetto della propria privacy perché sennò veramente non si vive più e in più non si sa neanche il perché magari non si arriva un risultato senza avere un'analisi accurata se stai vendendo casa con il nostro metodo open house 2.0 abbiamo portato i nostri venditori al 100% del prezzo richiesto in alcuni casi anche un prezzo superiore e in tempi 17 giorni 23 giorni 45 giorni trovi le testimonianze anche video di chi ha venduto casa con noi e poi trovi sempre il link in descrizione contatti diretti telefono whatsapp per poterci contattare oppure lasci direttamente i tuoi dati nel form in modo che ti contattiamo noi con calma e riceverai una consulenza che se stai guardando questo video è il regalo e noi ci vediamo al prossimo video qui trovi dei suggerimenti per altri video che ho realizzato e ricordati di iscriverti al canale per rimanere aggiornato su nuovi contenuti che usciranno a e Autore dei sorrisi